Siamo la 7, Cristiano! D'oggi comincia l'era CR7, il pallone d'oro in carica pronto a prendersi anche la scena italiana. Ronaldo! La Juventus è in vantaggio! È tornato il re! È tornato CR7! Ronaldo! È un gol pazzesco! Un gol strepitoso! È il più forte giuratore del pianeta! CR7! Ancora! In gomme! CR7! Di testa! Cristiano! Bravo!